Insomma, quali sono le caratteristiche della vostra ragazza ideale? Simpatica, dolce, sensibile, che ride alle mie battute. Gli piacciono le cose che mi piacciono a me. Quando mi vede mi fa sentire importante. Ah, e poi non guasta, insomma, pure se non è carattere, però pur buona. Ah, ci sta. No, poi non vi piacerebbe una ragazza che sa quello che vuole, no? Che vi organizza la vita, che vi dice quello che è giusto, quello che è sbagliato. Ma per questo mica serve una ragazza. Ci stanno già le nostre madri. Buongiorno ragazzi. Buongiorno.